I funzionari legati all'ufficio di presidenza della regione Campania sono 250, 25 i dirigenti, tutti di nomina diretta. Un numero probabilmente eccessivo, soprattutto se è paragonato a quello di altre regioni, come Lazio ad esempio, dove i dirigenti sono attualmente 16, o contro i 3 dell'Abruzzo. Sono i dati resi noti dal DIRER, sindacato che raccoglie i dirigenti regionali appunto, che punta il dito contro la macchina regionale Campania guidata da Stefano Caldoro. I leader del sindacato chiedono trasparenza, vogliono conoscere i criteri di scelta di questi dirigenti e come mai così tanti? Silvana De Paulis, segretario nazionale DIRER e Giovanna Donadio, segretario regionale Campano. Chiediamo e vogliamo che la riorganizzazione della regione Campania finalmente arrivi a conclusione. Non è possibile. Due strutture stratificate, firme che si incrociano, responsabilità che non si sa chi si riferiscono più. È un intricato guazzabuglio che nuoce alla classe dirigente e nuoce alla regione Campania. Laddove la macchina burocratica non va a regime, logicamente c'è un immobilismo del quale poi la cittadinanza, il territorio tutto, paga gli effetti in termini economici. In un periodo poi in cui tanto si dibatte sulla spending review e sulla trasparenza, tema di grandissima attualità, due cose che noi rileviamo mancare completamente in regione Campania attualmente. Grazie. Grazie.